Come va vicini di casa? Io sono Big House e questo è il primo episodio del remake di Dead Space. C'è poco da dire ragazzi, se Resident Evil è stato l'horror della mia infanzia, Dead Space è stato uno degli horror della mia adolescenza. Ancora mi ricordo ero un ragazzino, dovevo ancora fare le superiori. E nel corso di 14-15 anni per me c'è sempre stato l'appuntamento fisso con i tre giochi di Dead Space. Più o meno una volta all'anno si tornava a rigiocarli sperando di essermi dimenticato qualcosa, così da potermi nuovamente spaventare un po' come se fosse la prima volta. Un po' come se fosse la prima volta che mettevo piede sulla USG Ishimura. Almeno per quanto riguarda il primo capitolo. Solo che con questo remake appena uscito voglio andarci un pelino cauto ragazzi. Non voglio farmi prendere subito dall'emozione, perché abbiamo visto cos'è successo con il remake di Resident Evil 3. Hanno cambiato diverse cose, hanno tagliato diverse cose del gioco. Non vorrei che fosse anche questo il caso. Voglio dire, se hanno modificato qualcosina, ok, ma spero non troppo. Comunque ragazzi, stiamo giocando a difficoltà difficile, che tra l'altro è il penultimo livello di difficoltà. Dopo c'è impossibile, ma per quello aspettiamo un attimo magari. I doppiatori sono gli stessi, almeno per quanto riguarda Nicole. È la stessa voce dei vecchi giochi, grande! Però la faccia di Isaac è cambiata. Una meraviglia? La più grande nave trivella della sua classe. 14 anni. 14 anni ragazzi. Beh in teoria no, visto che l'ho rigiocato spesso nel corso del tempo, quindi... Ah ce la faccio! È troppo bello! Signore, siamo in comunicazione. Bene, apriamo la comunicazione, vediamo un po' chi ti risponde. La squadra di supporto a emergenze della USG Canyon. Davanti, scimore! Hai mai sentito di blackout comunicazioni su una di quelle cose? Hai mai sentito di una nave fantasma? Eccola! Attenzione! Mayday! Mayday! Improvvisamente esplode tutto senza apparente motivo! Per fortuna che c'è Isaac a bordo. È il protagonista, c'ha il float armor. Ce la caveremo per quello! Vai, luce blu! Bram, grande! Isaac, fai da leader! Guida lì tu, Isaac! Me lo ricordavo un po' più brusco l'atterraggio, però ci sta. Oddio, non male la nuova tutta però. Ah, fighissima! Wow! Wow, ragazzi! Isaac, sintonizza il tuo rig! Ah, devo farlo da solo? Mi ricordo che faceva tutto Kendra. Ma l'inventario, ragazzi! Tutto come una volta! Tutto come i vecchi giochi! La mappa! Le missioni! Isaac Clark, benvenuto sulla USG Ishimura! Grazie! Ah, questa stanza! Qualcuno è scappato di corsa! Tra poco ci sarà da correre pure per noi! Metà della Ishimura in avalia! Motori, scafo, trasporti! Tutto da buttare! Tutto... Tutto distrutto! Un'altra varia! No! I sistemi di quarantena sono a posto! Un momento! Sentito? Sì! Sentito? Sentito? Arrivano i guai? Sì! Sì! Bellissimo! Apri! 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 Tutto il sangue sulla tuta! Bello! Bellissimo! Non ce la fa... Sono troppo preso! Cut off their limbs! Sì! Sì! Tranquilla che so benissimo come si fa! Lo so fare il mio lavoro! Tranquilla! Ora con spazio... Madonna! Isaac! Che potenza! Il primo vero incontro! Porca puttana! Lo sapevo! Lo sapevo! Il bello è che lo sapevo! Un nemico a random è passato così, non lo vedi più! No! Il bello è che potresti vederlo dopo! Che magari spunta fuori da quel condotto! Non lo sai! E questo è il bello! E questo che... E che ti dava la strizza di andare avanti! Database! Tu ti registri tutorial delle chiamate? Ah! Un audiologo! Per Dio! Ma che che dice per Dio? Santi Numi! Qualcuno mi aiuti! Buon cielo! Un trasporto in avaria sta bloccando il tunnel e ostruisce il sistema! Una scheda dati è andata! Per annullare il blocco ne serve una di ricambio dal centro manutenzione! Ma si trova tutto dal lato di Isaac! Ovviamente! Chissà come mai eh! Allora dobbiamo andare di là! Di conseguenza... Prima andiamo qui! Oh! Devi insistere un attimo con lo sparare! Perché prima deve distruggere la carne! Poi c'è l'osso da polverizzare! E solo allora perde l'arto! E intanto che spari si vede la carne e le ossa sempre più esposte! Fighissimo! L'onda d'urto del pestone che si propaga per metri di distanza! Uuuuuh! Bah! Esplodi! Sempre a guardarsi dietro le spalle ragazzi eh! Perché potrebbero venirti addosso in qualsiasi momento! Cosa ho detto? Lo so che è un po' brutta come frase ma... Avete capito insomma! Appare ancora qualcuno o abbiamo finito qua? Adesso non sai se effettivamente un cadavere è messo lì oppure no! Facendomi sprecare i colpi! Safe! Non safe! Non safe! Te non sai con chi è che fare! Oh! Hai portato gli amichetti! Hai portato i maranza! La tua gang hai portato! Madonna! Mi sbombolo! Vi rivalto la vita! Madonna! Ah! Uuuuh i nodi! Forse è la cosa più importante e più preziosa di questo gioco! Isaac non possiamo restare qui a lungo! C'è molto movimento! Eh anche da me c'è molto movimento Ammond! Devo far muovere il trasporto! Ok! Daniel! Occhio alla porta! Prima però dobbiamo potenziarci ragazzi! Allora! I nodi servono a questo! Qualche danno in più non mi dispiacerebbe! Rompe il condotto e se ne va! Rompe il condotto e se ne va! Eh c'è ancora il blocco! Sono io la manutenzione! Non c'è bisogno di contattare nessuno! Oh perfetto! Il modulo da stasi! L'unica maniera per oltrepassare questa maledetta porta! Vai! Let's go! Tutto normale ragazzi! Tutto normale! Mi ha detto di portare qui gli altri! E queste sono le docce! Ma! Ma! Insomma! Chissà! Portare qui gli altri per fare cosa! Per... Per... Li avete sentiti anche voi? Questi sussurri! Questi bisbigli! Ah oddio! Qua c'era da fare quella cosa! Ma il funzionamento del caricatore! È certo! Per... Manutenzione! That's me! That's me! Presto! 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 Let's go! Non ci provare! Non ci provare! Bello! A te piace vomitare eh? Vomita questo! Prossima fermata! Morte! Non sono io intrappolato qua con voi! Siete voi che siete intrappolati qua con me! Scappa! 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 Questione di secondi! No eh! No no! Proprio ci hanno paura! Ah! Allora! È allora! Sì sì! Arriva ad aiutarti! Totale! Guarda! Oh! Si toglie il casco? Attenzione! Attenzione! Isaac! Con il casco qua! Fiero! Che succede? Quello che intendevo prima! Sì! Ti do una mano! A far saltare in aria tutto però! Oddio! Eccolo! No no! Qua ragazzi! Non ho più la stasi! Qui ragazzi conviene correre e basta! Oh! Ma guarda un po'! Questi hanno aspettato il trasporto così a lungo che si sono addormentati! Saranno stanchi morti! E qui abbiamo il fantomatico store! Rig di S08 originale? Cioè è una roba che c'è una roba che c'è già! Equipaggia! Cosa? E' la tuta originale del gioco originale? Uuuuh! E' proprio lei! E' proprio lei signori! Cambia qualcosa l'inventario? Mi ha dato qualche potenziamento! In teoria no! No! E' solo estetica! Io direi di comprare un kit medico e poi con i 10.000 crediti la tuta a livello 2! Giusto perché sono curioso di vedere com'è! 5% di corazza però! 6 slot in più dell'inventario! Buttali via! Un po' più di munizioni del caricatore! E io direi di potenziarci anche la salute! Dovrebbe ripristinarmela! Anche se non ho utilizzato kit medici! E me l'ha ripristinata! Così non ho sprecato kit ragazzi! Modulo cinetico! Grande! Oddio! Che è successo? Beh dai che dire ti sei difesa bene! Ti sei difesa con onore! Fucile impulsi! Mi sta piacendo anche se ci sono alcune cose che mi fanno un po' storcere il naso! I personaggi sembrano anche un po' più anziani rispetto all'originale! Ma forse perché hanno qualche pixel in più in faccia giustamente! Il volto di Isaac non è che mi faccia impazzire! Sembra il tizio di L.A. Noire! C'hanno fatto anche dei meme a riguardo! Ma non è un problema! Ci siamo fatti un'idea iniziale di com'è questo Dead Space Remake! Ditemi la vostra nei commenti ragazzi! Cosa ne pensate dell'episodio? Cosa ne pensate di questo remake in generale? Se l'avete visto da altri eccetera! E fatemi sempre sapere nei commenti se davvero vogliamo continuare con quest'arma! Io non ho assolutamente problemi ovviamente! Oppure se volete vedermi giocare anche con le altre! Abbiamo recuperato il fucile impulsi! Ma ce ne sono di ben altre anche ben più utili! Il secondo episodio cercherò di portarlo il prima possibile! E che dire! Ci diamo appuntamento alla prossima! Statemi bene! Ma soprattutto ragazzi! Stay big!